adria 600 supreme la gamma suprema è il top della gamma adria senza tetto pop up lo presentiamo in una veste molto sportiva effettivamente questo colorazione lo rende veramente molto aggressivo con sky roof e la possibilità di avere questo veicolo anche a nolleggio per 24 mesi con la formula valore sicuro barassi che la trovate all'interno del nostro sito www.centrocaravansbarassi.com sotto nel link della scheda poi come sempre nella descrizione vi farò il link proprio del veicolo stesso è possibile vedere la rata e dopo 24 mesi decidere se tenere restituirlo oppure cambiarlo con un altro veicolo lo vediamo insieme a me che sono luca del centro caravans barassi lui adria 600 spb in gamma suprema insomma c'è da divertirsi oggi nella recensione come sempre come dico io partiamo la gamma suprema come abbiamo detto è il top di gamma di adria sia nel fattore della coibentazione quindi abbiamo un veicolo con una coibentazione maggiore e poi qui sotto allegherò comunque delle foto di come il termo build viene costruito all'interno dei veicoli adria ma anche a fattore proprio di interno personalmente i veicoli adria negli ultimi anni sono stati quelli più ricercati perché come dire il suo interno molto giovanile molto moderno lo rende davvero molto grazioso agli occhi di tutti voi internamente poi non ha la cappelliera allo skyroof questo negli ultimi anni come anche nei video precedenti effettivamente e tantissime persone che si sono avvicinate dal 2020 in poi hanno preferito avere lo skyroof anche perché l'azione è veramente molto alta è questo un rammarico del mio è un po di invidia da parte mia e quindi la cappelliera effettivamente causava causa del fastidio però adria va a recuperare nella parte posteriore nella corona di pensieri posteriore tanto tanto spazio in più e nella parte degli armadi ha sempre sia nel lato del garage ma anche vicino al classico armadio sotto il frigorifero perché adria mantiene sempre la colonna a frigo uno spazio in più quindi va a strutturare maggiore armadio nella parte interna andiamo a vedere questo veicolo come sempre sul girettino laterale luci esterne con le diurne led 140 cavalli una colorazione stupenda un veicolo veramente molto sportivo anche nella parte esterna finestre a filo punto i due cassetti che vengono inseriti in più da adria il classico vano delle bombole due bombole di 10 kg come vedete la parte posteriore con la possibilità di avere la corona di pensieri veramente tutto molto moderno per quanto riguarda l'interno adria sulla gamma supreme l'interno è uno quindi non si può modificare la parte del mobilio invece è possibile modificare la parte dei cuscini quindi tessuti sì il mobilio no dove differenze nelle varie gambe tipo plus supreme oltre che optional la parte dello skyroof in realtà poi anche l'interno del mobile è differente passiamo come sempre la nostra recensione dalla parte posteriore dove vi elenco subito le cose che più mi sono piaciute da questo di questo veicolo che sono la possibilità di aprire in un'unica soluzione il letto quindi con una mano io posso alzare la parte del letto e creare all'interno un mega ampio garage quindi ma in una maniera molto più semplice rispetto a diciamo tutti gli altri competitor come vi dicevo corona di pensili nella parte posteriore del veicolo mi piacciono tantissimo anche tutta la zona dei push con la possibilità di far girare aria all'interno del mobile stesso un'ulteriore cosa che mi è piaciuta moltissimo nella parte posteriore è la qualità del materasso stessa adria monta un materasso specifico dove vi assicuro perché ci ho dormito sopra la qualità è veramente alta un'ulteriore cosa che mi è piaciuto di questo veicolo è l'apertura nella parte alta tutti i van ogni volta hanno l'apertura bassa e non si riesce dall'interno bisogna uscire dal van stesso per poi aprire il portellone nella parte esterna invece adria fa l'apertura nella parte alta sistema duplex di bagno bagno duplex qual è questo sistema duplex così famoso beh intanto non si ha nessuna porta che va a dare fastidio quindi nella parte del garage come vedete che è sotto e qui vi parlavo dell'armadio nella presentazione in più quindi abbiamo il classico armadietto in più oltre che l'armadio sotto il frigorifero non abbiamo nessuna porta che va a dare fastidio nella parte del corridoio e sistema duplex è la prima parte che il lavandino trasla la seconda parte come vedete che si ampia e crea un mega impianto doccia questo secondo me è un'arma vincente da parte di adria stessa non finiscono qui le cose che mi sono piaciute di questo 600 spb perché il frigorifero nella parte alta compressore è una di quelle come vedete in questo momento noi siamo collegati alla 220 lui sta già andando e internamente è acceso da qualche minuto per la precisione nove minuti e internamente abbiamo già una temperatura eccezionale è vero che oggi non è una giornata particolarmente calda dico la verità nonostante il la primavera il caldo tarda ad arrivare però è anche vero che internamente molto gradevole il fatto che io posso partire e con la batteria andare a raffrescare in pochi minuti il suo nemico potrebbe essere il caldo perché ovviamente un frigorifero a compressore sfrutta la batteria diciamo l'impianto elettrico personalmente su questo veicolo si possono configurare degli accessori quali o batteria litio o pannello solare o batteria litio pannello solare una seconda batteria poi dipende sempre dall'utilizzo che si fa dei veicoli stessi noi siamo qui ad accogliervi siamo qui a consigliarvi meglio ovviamente se l'utilizzo è quello di avere un veicolo in libera ci saranno dei consigli in alternativa altri consigli stupendi sono i cuscini per quanto riguarda la tappezzeria adria questo il baxter a me personalmente uno dei miei preferiti andiamo a vedere anche come viene proprio rifinito il cuscino sistema isofix è presente su tutti i veicoli adria gli oscuranti le zanzariere sono a tapparella anche questa è una cosa che mi piace veramente tanto andiamo a ritrovarli sia nella parte laterale del veicolo sia nella parte frontale della domitica quindi dal basso verso l'alto sia nella parte dello skyroof stesso ovviamente che serve proprio per isolare sia la parte di come dire illuminazione esterna sia la parte di coibentazione per quanto riguarda il sistema del motore in questo caso viene montato appunto su citroen adria da più possibilità e la possibilità su questo veicolo è la citroen 140 cavalli la cabina abbiamo quella migliore perché adria su varie gambe decide poi su quale piantina andare scuscolate su quale meccanica andare a montare ma le meccaniche sono tutte prese 3,5 come portata quindi non esiste la portata 3,3 o come optional 3,5 quindi abbiamo già retrocamera radio infotainment clima automatico comandi al volante oscuranti remis insomma tutto quello che che necessita il veicolo per far sì che possiate avere una qualità di vacanza di tempo libero che sia eccezionale questo è una piccola visione del veicolo dell'adria supreme se vi è piaciuta potete scrivermi tranquillamente nel frattempo vi auguro una splendida giornata da me e da lui che è adria supreme 600 sbb ciao ragazzi